Torna anche quest'anno a Roseto degli Abruzzi, emozioni in musica, una due giorni di musica dal vivo, anni 60 e 70. Sì, è un piacere l'organizzazione che stiamo facendo, lo facciamo con passione. Dal successo dell'anno scorso lo stiamo ripetendo con gruppi quest'anno ancora più interessanti, tipo i New Trolls, gli Homo Sapiens, anche le Minigonne, e quindi il pubblico sicuramente trascorrerà due serate bellissime di musica molto piacevole, molto bella. Come nasce questa iniziativa? L'iniziativa nasce dagli amici di Francavilla, del Blue Bar, che sono amici miei carissimi da diversi anni, che loro organizzano questo Blue Bar addirittura per cinque serate, sei serate. Noi siamo stati sempre invitati a suonare con il mio gruppo, con Le Ombre, perché no, abbiamo pensato di rifarla anche un po' in serate un po' più corte a Roseto. L'anno scorso è stato veramente un bel successo e quindi quest'anno l'abbiamo ripetuto. Un evento, questo che andrà in scena, grazie all'Associazione Musicale Le Ombre e il patrocino del Comune. Sì, questa è una manifestazione organizzata dall'Associazione Musicale Le Ombre, di cui io sono il direttore artistico di quest'anno e quest'anno proporremo oggi il nuovo cartellone di questa edizione. Abbiamo il primo agosto un gruppo al femminile che vengono da Torino a seguire una band, diciamo, storica italiana, gli Homo Sapiens. Il 2 agosto invece abbiamo un gruppo locale, che è un gruppo nato a Pineso nel 64, che proporranno i classici del beat italiano. Per chiudere questa manifestazione, quest'anno abbiamo chiamato un grande gruppo storico, i New Trolls.